Lezione 1. Superare le sfide. Ciao Anna, ho sentito parlare di Amy. Era su una sedia a rotelle e non riusciva a parlare. Non riusciva a far funzionare mani e piedi. Ciao John, sì, conosco Amy. Nonostante i suoi limiti fisici, aveva uno spirito incredibile. Deve essere stato difficile per lei affrontare le attività quotidiane? Assolutamente. Ma Amy ha trovato il modo di comunicare e adattarsi alle circostanze. Come faceva a comunicare se non poteva parlare o usare le mani? Amy ha usato metodi di comunicazione alternativi come il linguaggio dei segni o la tecnologia dello sguardo. È impressionante. Dimostra il potere della determinazione e della resilienza. Esattamente. La storia di Amy è una testimonianza dello spirito umano e della capacità di superare gli ostacoli. Ha ricevuto il sostegno di altri per aiutarla nelle attività quotidiane? Sì. Aveva una rete di operatori sanitari e dispositivi di assistenza per aiutarla nelle attività quotidiane. È commovente sapere che aveva un sistema di supporto. Avere un sistema di supporto può fare la differenza nella vita di qualcuno, soprattutto di fronte alle sfide. Posso immaginarlo. È importante offrire supporto e comprensione a chi ne ha bisogno. Assolutamente. L'empatia e la compassione fanno molto per far sentire qualcuno apprezzato e incluso. Amy ha partecipato a qualche attività o ha perseguito i suoi interessi nonostante i suoi limiti fisici? Sì. Era appassionata di arte e usava strumenti adattivi per creare bellissimi capolavori. Questo è stimolante. Dimostra che la creatività non conosce confini. Infatti. L'arte può essere una potente forma di autoespressione e un mezzo per trascendere i limiti fisici. La storia di Amy ci insegna a non sottovalutare la forza e il potenziale di ogni individuo. Sicuramente. Ci ricorda di avvicinarci agli altri con rispetto ed empatia, indipendentemente dalle loro capacità. Grazie per aver condiviso la storia di Amy. È una preziosa lezione di perseveranza e inclusività. Lezione 2. Pianificazione anticipata. Salve Anna. Quando si tratta di eventi o viaggi, è meglio prenotare in anticipo per evitare problemi dell'ultimo minuto. Ciao John. Non potrei essere più d'accordo. Pianificare in anticipo può salvarci da stress e disagi inutili. Assolutamente. Ci dà la tranquillità di sapere che tutto viene curato in anticipo. La pianificazione anticipata ci consente inoltre di garantire offerte e opzioni migliori. Questo è vero. Prenotando in anticipo, spesso possiamo trovare prezzi scontati e maggiore disponibilità. È anche utile per organizzare il nostro programma e prendere le disposizioni necessarie. Sicuramente. Ci aiuta a allocare tempo e risorse in modo efficiente. Inoltre, se prenotiamo in anticipo, abbiamo più tempo per fare ricerche e prendere decisioni informate. Questo è un buon punto. Possiamo raccogliere informazioni, leggere recensioni e scegliere ciò che si adatta alle nostre preferenze. Esattamente. Pianificare in anticipo ci dà l'opportunità di fare scelte ben informate. Inoltre, è premuroso nei confronti delle altre persone coinvolte. Possono anche pianificare di conseguenza. Assolutamente. Dimostra rispetto per il tempo di tutti e consente un migliore coordinamento. È sempre buona norma a verificare eventuali politiche di cancellazione o rimborso al momento della prenotazione in anticipo. Sì. Conoscere i termini e le condizioni può aiutarci a prendere accordi flessibili, se necessario. La pianificazione anticipata si applica anche alle attività e alle responsabilità quotidiane, non solo agli eventi speciali. Vero. Organizzando in anticipo la nostra routine quotidiana, possiamo essere più produttivi ed efficienti. Ci aiuta a stabilire le priorità delle nostre attività e a dedicare tempo ad attività importanti. Giusto. Ci aiuta a rimanere in linea e a raggiungere i nostri obiettivi. Nel complesso, pianificare in anticipo è un'abitudine preziosa che porta numerosi benefici in vari aspetti della vita. Non potrei essere più d'accordo. È un'abilità che vale la pena sviluppare per una vita più fluida e organizzata. Lezione 3. Il potere della risata. Eianna, sai, una semplice risata può innescare una reazione a catena di positività. Ciao John. Assolutamente. Le risate sono contagiose e hanno il potere di sollevare tutti quelli che ci circondano. È incredibile come una risata condivisa possa creare un senso di connessione e gioia. La risata abbatte le barriere e unisce le persone, indipendentemente dal loro background. Non potrei essere più d'accordo. È un linguaggio universale che trascende i confini culturali. Ridere ha anche numerosi benefici per la salute, sia fisici che emotivi. Questo è vero. Riduce lo stress, rinforza il nostro sistema immunitario e migliora il nostro benessere generale. Ridere rilascia endorfine, quelle sostanze chimiche del benessere che ci rendono più felici. È come una medicina naturale che porta sollievo immediato e alleggerisce il nostro umore. E la parte migliore è che le risate sono gratuite e facilmente disponibili per tutti. Assolutamente. Dovremmo sempre cogliere le opportunità di ridere e condividere risate con gli altri. Anche nei momenti difficili, le risate possono fornire una pausa e una prospettiva tanto necessarie. Ci aiuta a non prenderci troppo sul serio e a trovare l'umorismo nelle piccole cose. Ridere insieme rafforza le relazioni e crea ricordi duraturi. È un modo meraviglioso per creare legami con amici, familiari e persino estranei. E non dimentichiamo che la risata è un ottimo rompighiaccio nelle situazioni sociali. Vero. Ci aiuta a sentirci più a nostro agio e ad aprirci a nuove persone ed esperienze. Quindi, ricordiamoci di trovare gioia e umorismo nella nostra vita quotidiana e diffondere risate ovunque andiamo. Assolutamente. Creiamo un effetto a catena di risate e positività. Lezione 4. Trovare la coppia perfetta. Ciao Anna. Hai bisogno di aiuto per trovare un paio di tacchi per la tua occasione speciale? Ciao John. Sarebbe fantastico. Sto cercando qualcosa di elegante e comodo. Suggerisco di considerare l'altezza dei tacchi. Qual è la tua preferenza? Vorrei qualcosa con un tacco moderato, così posso ballare comodamente. Ottimo. Che ne dici di una pompa classica? È versatile e si abbina bene a diversi outfit. Sembra una buona opzione. Che mi dici del colore? Qualche suggerimento? Il nero è sempre una scelta sicura, ma puoi anche optare per una tonalità neutra come il nudo o l'argento. Mi piace l'idea dell'argento. Aggiunge un tocco di glamour al look generale. Perfetto. Ora parliamo del materiale. Pelle, raso o qualcos'altro? Il raso sembra lussuoso. Completerebbe bene l'occasione. Allora è satinato. Ora concentriamoci sullo stile. Punta aperta o punta chiusa? Penso che la modalità a punta chiusa sarebbe più appropriata per questo evento. Va bene. Decoltea a punta chiusa con finitura satinata in argento. Sembra una scelta incredibile. Mi sto già emozionando. Grazie per l'aiuto. Siete i benvenuti. È un piacere aiutarti a trovare il paio di tacchi perfetto. Apprezzo la tua guida. È sempre utile avere una seconda opinione. Assolutamente. È importante considerare sia lo stile che il comfort nella scelta delle calzature. Sicuramente. Voglio godermi l'occasione senza alcun disagio. Questo è lo spirito. Ora sarai pronto a ballare tutta la notte con stile. Lezione 5. Soddisfare i bisogni di base. Ciao Anna. Ti sei mai chiesto come le persone soddisfano i loro bisogni elementari della vita? Ciao John. Assolutamente. È affascinante esplorare i vari modi in cui le persone soddisfano i loro bisogni fondamentali. In alcune culture, gli uomini si assumono la responsabilità di accendere un fuoco, mentre le donne raccolgono legna da ardere per cucinare. Questo è interessante. Mostra la divisione del lavoro e l'importanza del lavoro di squadra nel soddisfare i bisogni di base. Sicuramente. È uno sforzo collaborativo per garantire il benessere della famiglia o della comunità. Ho anche letto dell'importanza dell'acqua nel soddisfare i bisogni primari. È essenziale per la sopravvivenza. Hai ragione l'accesso all'acqua pulita è fondamentale per bere, cucinare e mantenere l'igiene. È un peccato che non tutti abbiano un facile accesso all'acqua pulita. Molti si trovano ad affrontare la scarsità d'acqua. Sì, è una sfida globale. Si stanno compiendo sforzi per fornire acqua pulita a chi ne ha bisogno. È incoraggiante sentirlo. Un altro bisogno essenziale è il cibo. C'è un'acqua pulita. 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 Il cibo non solo nutre il nostro corpo, ma unisce anche le persone e celebra la diversità culturale. Trovo affascinante il modo in cui le ricette tradizionali vengono tramandate da una generazione all'altra. È un modo meraviglioso per preservare il patrimonio culturale e mantenere un senso di identità. Un riparo è un'altra necessità fondamentale. Le persone utilizzano vari materiali e stili architettonici per l'edilizia abitativa. Sì, dalle tradizionali capanne di fango ai moderni grattacieli, l'architettura riflette le esigenze e le risorse di una società. È incredibile come gli umani si siano adattati a diversi ambienti per creare case. In effetti, la nostra capacità di innovare e creare rifugi è notevole. È essenziale ricordare che soddisfare i bisogni di base va oltre i requisiti fisici. Anche il supporto emotivo è fondamentale. Assolutamente. Le connessioni umane, l'amore e l'appartenenza sono fondamentali per il nostro benessere. Così vero. È importante promuovere le relazioni e creare comunità solidali. Sicuramente. Comprendendo come le persone soddisfano i loro bisogni fondamentali, possiamo apprezzare la diversità e la resilienza dell'umanità. Lezione 6 Curiosità e domande Ciao Anna, mi chiedevo, devo fare domande alla fine di una conversazione? Ciao John, assolutamente. Fare domande dimostra che sei interessato e coinvolto nella conversazione. Questo ha senso. Incoraggia ulteriori discussioni e mi aiuta a saperne di più. Sicuramente. È un ottimo modo per raccogliere informazioni e acquisire diverse prospettive. A volte mi preoccupo di fare la domanda sbagliata. Qualche consiglio in merito? Non aver paura di fare domande. È così che impariamo e cresciamo. Basta essere rispettosi e di mentalità aperta. Lo terrò a mente. Quindi, che tipo di domande devo fare? Le domande aperte sono ottime perché invitano a risposte dettagliate e ponderate. Puoi darmi un esempio di domanda aperta? Certo. Invece di chiedere, ti è piaciuto il film, puoi chiedere, cosa ti è piaciuto di più del film? Ah, capisco. La seconda domanda incoraggia una risposta più approfondita. Esattamente. Incoraggia la persona a condividere i propri pensieri e sentimenti. Ci sono altri tipi di domande che dovrei conoscere? Sì. Puoi anche porre domande chiarificatrici per assicurarti di aver compreso l'argomento o il punto di vista della persona. Questo è utile. Quindi, fare domande dimostra che sto ascoltando attivamente, giusto? Assolutamente. Dimostra il tuo coinvolgimento e la tua curiosità nella conversazione. Farò sicuramente uno sforzo per fare altre domande d'ora in poi. È bello sentirlo. Ricorda, la curiosità è la chiave per l'apprendimento continuo. Grazie per la tua guida. Apprezzo le tue intuizioni. Lezione 7. Esplorazione degli stili interni. Ciao, Anna. Stavo pensando agli stili degli interni. Qual è la tua preferenza? Ciao, John. Mi piace esplorare diversi stili di interni. Personalmente, preferisco un look moderno e minimalista. Sembra interessante. Puoi dirmi di più sul design moderno e minimalista? Il design moderno si concentra su linee pulite, semplicità e funzionalità. Abbraccia gli spazi aperti e la luce naturale. Capisco. Quindi, si tratta solo di creare un ambiente ordinato ed elegante? Sì, esattamente. Il design minimalista enfatizza la semplicità e l'eliminazione degli elementi non necessari. Ci sono altri stili di interni che vale la pena esplorare? Sicuramente. C'è anche un design tradizionale, che trae ispirazione da influenze classiche e storiche. Il design tradizionale sembra più elaborato ed elegante, giusto? Sì, presenta spesso colori intensi, dettagli intricati e composizioni di mobili formali. E il design contemporaneo? In cosa differisce dal design moderno? Il design contemporaneo è più fluido e in evoluzione. Incorpora le tendenze attuali pur dando priorità alla funzionalità. Quindi, il design contemporaneo è più flessibile e in continua evoluzione rispetto al design moderno? Questo è corretto. Consente una maggiore sperimentazione e fonde vari elementi di stili diversi. Questo è affascinante. Ci sono altri stili di interni che trovi interessanti? Sì, c'è anche il design industriale, che trae ispirazione dalle materie prime e dagli elementi strutturali a vista. Ah, tipo i loft che ho visto sulle riviste? Esattamente. Presenta spesso planimetrie aperte, pareti in mattoni a vista e accenti metallici. Apprezzo la varietà di stili interni. È interessante come ognuno di essi crei un'atmosfera unica. Assolutamente. Il design degli interni ci consente di esprimere la nostra personalità e creare spazi che risuonano con noi. Sono ispirata a esplorare diversi stili e trovare quello più adatto a me. Lezione 8. Pianificare una passeggiata nel parco. Ciao Anna, hai dei piani per oggi? Ciao John, non ancora. Potrei andare a fare una passeggiata nel parco. Che ne dici di te? Sembra carino. Potrei unirmi a te. Il clima è perfetto per una passeggiata. Ottimo. Sarà bello avere un po' di compagnia. Possiamo goderci l'aria fresca e la natura. Sono d'accordo. È sempre piacevole trascorrere del tempo all'aria aperta e prendersi una pausa dalla routine quotidiana. Assolutamente. La natura ha un modo per ringiovanire la nostra mente e il nostro corpo. Ci vediamo all'ingresso del parco tra un'ora? Sembra un piano. Ci vediamo lì tra un'ora. Allora. Perfetto, non vedo l'ora. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Divertiamoci un sacco al parco. Abbi cura di te. Grazie anche tu prenditi cura di te. Ci vediamo tra poco. Lezione 9. Pianificare un viaggio. Ciao Anna. Stavo cercando alcune opzioni per te. Quante notti soggiornerai? Ciao John. Ho intenzione di rimanere per quattro notti. Cosa hai trovato? Ho trovato alcuni hotel vicino al centro della città. Permettetemi di condividere i dettagli con voi. Sarebbe fantastico. Sono interessato a vedere cosa è disponibile. Ecco tre opzioni. Hotel A, Hotel B e Hotel C hanno tutte buone recensioni. Grazie. Puoi dirmi di più su ogni hotel? L'hotel A è un hotel di lusso con spa e centro fitness. È noto per il suo servizio eccellente. Sembra allettante. Che ne dite dell'hotel B? L'hotel B è un hotel boutique con una piscina panoramica e un bar alla moda. Offre un'esperienza unica. Interessante. E cosa puoi dirmi dell'hotel C? L'hotel C è un'opzione economica. È pulito e confortevole, ma non ha molti servizi. Hmm, capisco. Considerando il mio budget, l'hotel C potrebbe essere una buona scelta. È sicuramente un'opzione più economica. Posso andare avanti e prenotare l'hotel C per te? Sì, per favore. Sarebbe fantastico. Grazie per l'aiuto. Siete i benvenuti. Sono lieto di poterti aiutare. Mi occuperò subito della prenotazione. Lo apprezzo. Fammi sapere se hai bisogno di informazioni da me. Lo farà. Mi assicurerò di finalizzare tutto e di inviarti i dettagli di conferma. Perfetto. Non vedo l'ora di partire per il mio viaggio. Grazie ancora. Non è affatto un problema. Vi auguriamo un soggiorno fantastico e godetevi il viaggio. Viaggi sicuri. Lezione 10. Interrogare il futuro della speranza. Ciao Anna. Stavo pensando a qualcosa. È su questa domanda fondamentale che il futuro della speranza deve essere messo in discussione. Ciao John. Questa è la domanda per cui mi diverto. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Credo sia importante esaminare le sfide e le incertezze che affrontiamo. Assolutamente. È attraverso le domande che possiamo trovare nuove prospettive e soluzioni. Le domande ci aiutano a esplorare le possibilità e a cercare una migliore comprensione. Ci permette di sfidare lo status quo e immaginare un futuro migliore. Esattamente. Facendo domande, possiamo identificare le aree che necessitano di miglioramenti e lavorare per un cambiamento positivo. Le domande ci mantengono anche curiosi e coinvolti, favorendo l'apprendimento e la crescita continui. Questo è vero. Ci incoraggia a pensare in modo critico e a non dare le cose per scontate. È attraverso le domande che possiamo scoprire idee innovative e superare i limiti. Le domande portano a discussioni significative e incoraggiano la collaborazione tra diverse prospettive. Ci aiuta ad affrontare problemi complessi e a trovare soluzioni creative insieme. Facendo domande, possiamo ispirare gli altri a riflettere profondamente e a contribuire con le loro intuizioni uniche. Consente alle persone di sfidare la norma e dare forma a un futuro più pieno di speranza. Le domande sono un catalizzatore per il progresso e una parte essenziale del nostro viaggio verso un mondo migliore. Infatti, continuiamo a interrogarci, esplorare e cogliere le possibilità che ci attendono. Assolutamente. Continuiamo a interrogarci e a lottare per un futuro pieno di speranza e infinite possibilità. Lezione 11. Regime di fitness Ciao Anna, è una buona idea. Che tipo di esercizi stai facendo per mantenerti in forma? Ciao John. Sto incorporando un mix di allenamento cardio e di forza nella mia routine. Sembra un approccio a tutto tondo. Quali esercizi cardio specifici ti piacciono? Mi piace correre e andare in bicicletta. Mi aiutano a migliorare la mia resistenza e ad aumentare la frequenza cardiaca. La corsa e il ciclismo sono ottimi modi per bruciare calorie e rafforzare il sistema cardiovascolare. Assolutamente. E per l'allenamento della forza, ho fatto una combinazione di esercizi a corpo libero e uso di pesi liberi. Gli esercizi a corpo libero sono convenienti e i pesi liberi possono aiutarti a costruire muscoli e aumentare la forza. Trovo che esercizi a corpo libero come flessioni e squat siano efficaci per colpire più gruppi muscolari. Sono ottimi esercizi composti che coinvolgono diversi muscoli contemporaneamente. Incorporo anche un po' di yoga e pilates per la flessibilità e la forza del core. Lo yoga e il pilates sono fantastici per migliorare la flessibilità, l'equilibrio e il controllo generale del corpo. Sono d'accordo. Mi aiutano a sentirmi più concentrato e consapevole durante gli allenamenti. Hai pensato di aggiungere qualche forma di allenamento ad intervalli ad alta intensità, IT, alla tua routine? Sì, faccio allenamenti IT un paio di volte a settimana. Sono intensi ma efficaci. L'IT è noto per la sua efficacia nel bruciare calorie e nel migliorare la forma cardiovascolare. Mi fa sicuramente battere il cuore e mi fa sentire pieno di energia. È fantastico che tu abbia una routine di fitness ben bilanciata. Hai giorni di riposo? Sì, mi assicuro di includere i giorni di riposo nel mio programma per consentire al mio corpo di riprendersi e prevenire il sovrallenamento. Il riposo e il recupero sono ugualmente importanti per la crescita muscolare e per evitare lesioni. Non potrei essere più d'accordo. È essenziale ascoltare il nostro corpo e dargli il riposo di cui ha bisogno. Assolutamente. E rimanere idratati e mantenere una dieta sana sono fondamentali anche per la forma fisica generale. L'idratazione e l'alimentazione svolgono un ruolo significativo nel sostenere i nostri allenamenti e nel promuovere il benessere generale. Beh, il tuo regime di fitness sembra impressionante e completo. Continuate così. Grazie è essenziale dare priorità alla nostra salute e forma fisica. Continuiamo a ispirarci l'un l'altro. Sicuramente. Rimaniamo fedeli ai nostri obiettivi di fitness e incoraggiamoci a vicenda lungo il percorso. Lezione 12. Apparecchi ad alta efficienza energetica Ciao Anna. Anch'io sto cercando di risparmiare sulla mia bolletta elettrica. Cerca un modello con una funzione di risparmio energetico. Ciao John. È un'ottima idea. Gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica possono fare una differenza significativa nella riduzione del consumo energetico. Assolutamente. Non solo aiutano l'ambiente, ma ci fanno anche risparmiare denaro a lungo termine. Nella scelta degli elettrodomestici, cerca l'etichetta ENERGY STAR. Indica un'elevata efficienza energetica. Questo è un buon consiglio. Gli apparecchi certificati ENERGY STAR soddisfano severi standard di efficienza energetica. Un'altra caratteristica da considerare è la classificazione del consumo energetico dell'apparecchio. Più è basso, meglio è. Sì, gli apparecchi con valori di consumo energetico inferiori tendono ad essere più convenienti a lungo termine. È anche utile confrontare diversi modelli e marche per trovare l'opzione più efficiente dal punto di vista energetico. Leggere le recensioni dei clienti e condurre ricerche può fornire informazioni preziose sull'efficienza energetica. Inoltre, considera le dimensioni dell'apparecchio. Scegline uno che soddisfi le tue esigenze di utilizzo. Giusto. Un elettrodomestico di grandi dimensioni può consumare più energia del necessario per la casa. E non dimenticare di scollegare o spegnere gli elettrodomestici quando non li usi. La potenza in standby può comunque aumentare. È un buon promemoria. Scollegare dispositivi come i caricabatterie e spegnere le luci può fare la differenza. Investire in prese multiple intelligenti può anche aiutare a eliminare il consumo energetico in standby. Le prese multiple intelligenti sono una soluzione conveniente per controllare il consumo di energia e ridurre gli sprechi di energia. Quando si tratta di apparecchi di raffreddamento e riscaldamento, prendi in considerazione i modelli con impostazioni di risparmio energetico e timer programmabili. I termostati intelligenti possono essere particolarmente utili per ottimizzare il controllo della temperatura e l'efficienza energetica. Ti consentono di regolare le impostazioni da remoto e creare orari in base al tuo stile di vita. Inoltre, una corretta manutenzione e una pulizia regolare degli elettrodomestici possono garantire un'efficienza energetica ottimale. La manutenzione è fondamentale. Pulisci i filtri e le bobine e verifica eventuali segni di usura o malfunzionamento. In questo modo, gli elettrodomestici possono funzionare al meglio e consumare meno energia. Assolutamente! Fare scelte consapevoli ed essere consapevoli del consumo di energia può giovare sia ai nostri portafogli che all'ambiente. Hai ragione facciamo dell'efficienza energetica una priorità e contribuiamo a un futuro sostenibile. Lezione 13. Decorare l'albero di Natale Ciao Anna, è ora di addobbare l'albero di Natale. Che ne dici di appendere orpelli e ornamenti sull'albero? Ciao John! Sembra un'idea meravigliosa. Possiamo anche appendere fili di luci sull'albero per un tocco festivo. Tinsel aggiunge un effetto lucicante e gli ornamenti conferiscono colore e personalità all'albero. Assolutamente! E i fili di luci creano un'atmosfera magica, soprattutto di sera. Quando appendi gli orpelli, inizia dall'alto e lasciali cadere a cascata lungo i rami in modo uniforme. In questo modo, l'orpello creerà un bellissimo effetto a cascata su tutto l'albero. E quando si tratta di ornamenti, distanziali uniformemente per creare un look equilibrato. La miscelazione di diverse dimensioni, forme e colori degli ornamenti può rendere l'albero visivamente accattivante. Sono d'accordo. Aggiunge varietà e mantiene l'albero interessante da guardare da diverse angolazioni. Per quanto riguarda le luci, inizia dalla base e intrecciale a zigzag verso l'alto. L'intreccio delle luci garantisce una distribuzione uniforme e impedisce che le aree siano eccessivamente luminose e oscure. È anche una buona idea scegliere luci con una combinazione di colori che integri gli ornamenti e le decorazioni. In questo modo, tutto si coordina bene e crea un aspetto coeso. Una volta posizionate le luci, fai un passo indietro e controlla eventuali spazi vuoti o aree che necessitano di luci aggiuntive. Effettuare le regolazioni necessarie assicurerà che l'albero sia illuminato in modo uniforme e visivamente piacevole. E non dimenticare di testare le luci prima di appenderle per assicurarti che funzionino correttamente. Questo è un consiglio importante. Testare preventivamente le luci consente di risparmiare tempo e consente le eventuali sostituzioni necessarie. Dopo che tutte le decorazioni sono finite, prenditi un momento per apprezzare la bellezza dell'albero. È uno spettacolo magico che porta gioia e crea un'atmosfera festosa. Assolutamente! L'albero di Natale funge da fulcro per le feste natalizie. È un simbolo di calore, amore e solidarietà in questo periodo speciale dell'anno. Facciamo tesoro di questi momenti e creiamo ricordi duraturi con il nostro albero splendidamente decorato. Non potrei essere più d'accordo. Ti auguro un gioioso e felice periodo natalizio. Lezione 14. Impostazione della temperatura ambiente. Ciao Anna, devo regolare la temperatura della stanza. Certo, posso aiutarti in questo. Quanto caldo lo vorresti? Trovare il giusto equilibrio è importante. Puntiamo a una temperatura adatta a entrambi. Concordato. Circa 68-72 gradi Fahrenheit, 20-22 gradi Celsius, è di solito un intervallo confortevole. Sembra ragionevole. Regolerò il termostato di conseguenza. Tieni presente che le preferenze personali possono variare, quindi è essenziale comunicare e trovare un compromesso. Assolutamente. Ognuno ha diversi livelli di comfort ed è importante considerare le esigenze di tutti. Vale anche la pena notare che la temperatura ideale può variare a seconda della stagione e delle condizioni meteorologiche. Questo è un buon punto. Durante i mesi più freddi, una temperatura leggermente più calda potrebbe essere più confortevole. E nei mesi più caldi, una temperatura leggermente più fredda può aiutare a mantenere la stanza fresca. Inoltre, un adeguato isolamento e sigillatura di eventuali correnti d'aria possono aiutare a mantenere una temperatura costante. Le correnti d'aria possono far sentire la stanza più fredda o più calda di quanto si desideri, quindi affrontarle è essenziale. L'uso di ventole o la regolazione di persiane e tende può anche aiutare a regolare la temperatura e il flusso d'aria. Questo è un ottimo consiglio. I ventilatori possono far circolare l'aria e la regolazione delle tende può controllare la quantità di luce solare che entra nella stanza. Si tratta solo di trovare la giusta combinazione di temperatura, flusso d'aria e luce naturale per un ambiente confortevole. E non dimentichiamo l'efficienza energetica. Impostare una temperatura leggermente più bassa o più alta può far risparmiare energia. Sì, essere consapevoli del consumo di energia è importante sia per l'ambiente che per le nostre bollette. Quando esci dalla stanza, valuta la possibilità di regolare leggermente la temperatura per risparmiare energia. È un buon promemoria. È una piccola azione che può fare la differenza. Infine, se disponi di un termostato programmabile, sfrutta le sue funzionalità per personalizzare le impostazioni della temperatura durante il giorno. I termostati programmabili sono convenienti e possono aiutare a ottimizzare il consumo di energia in base alle nostre routine quotidiane. Esattamente. Ci permettono di impostare temperature diverse per vari momenti della giornata. In questo modo, possiamo garantire comfort quando siamo presenti e risparmiare energia quando siamo assenti. Si tratta di trovare il giusto equilibrio e creare un ambiente di vita confortevole per tutti. Non potrei essere più d'accordo. Cerchiamo di ottenere una temperatura armoniosa adatta alle nostre esigenze. Lezione 15. Collaborazione in team. Salve Anna. Penso che dovremmo consultare i nostri rispettivi team e riunirci di nuovo più tardi. Ciao John. Sembra un buon piano. È importante raccogliere input da tutte le persone coinvolte. Assolutamente. La collaborazione e il lavoro di squadra sono fondamentali per prendere decisioni informate. Sono d'accordo. Garantisce che vengano prese in considerazione diverse prospettive e competenze. Coinvolgendo i nostri team, possiamo attingere alle loro conoscenze e intuizioni. In questo modo, possiamo fare scelte complete e informate. È fondamentale creare un ambiente in cui tutti si sentano apprezzati e possano contribuire. Sì, promuovere una comunicazione aperta e incoraggiare idee diverse porta a risultati migliori. Una volta raccolti gli input necessari, possiamo riunirci nuovamente per discutere i nostri risultati. Questo ci permetterà di sintetizzare le informazioni e andare avanti con un piano solido. La collaborazione crea anche fiducia e rafforza i legami all'interno dei nostri team. Assolutamente. Promuove il senso di appartenenza e il successo collettivo. Un lavoro di squadra efficace può portare a una maggiore produttività e innovazione. Quando uniamo i nostri talenti e lavoriamo insieme, possiamo ottenere risultati straordinari. Assicuriamoci di avere obiettivi e aspettative chiari per i nostri team. Stabilire obiettivi chiari ci aiuterà a guidare i nostri sforzi di collaborazione. E stabiliamo anche linee di comunicazione aperte per facilitare la collaborazione continua. Lezione 16. Scelte per la colazione mattutina. Ciao Anna. Cosa c'è per colazione oggi? Sto mangiando cereali con frutta e yogurt. Ciao John. Sembra una scelta deliziosa e salutare. Sto mangiando uova strapazzate con pane tostato. La colazione è un pasto importante per iniziare la giornata con energia e nutrienti. Assolutamente. Fornisce il carburante di cui il nostro corpo ha bisogno per funzionare al meglio. Includere frutta e yogurt nei miei cereali aggiunge un tocco rinfrescante e nutriente. La frutta e lo yogurt sono ottime fonti di vitamine, minerali e probiotici. Ti piacciono le uova strapazzate? Aggiungete condimenti o verdure. Li gusto con una spolverata di sale e pepe e a volte aggiungo pomodori o spinaci tritati. È una combinazione gustosa. Aggiunge sapore e una dose extra di nutrienti. In effetti, è un modo semplice per incorporare più verdure nella mia colazione. La varietà è importante quando si tratta di colazione. Mantiene le cose interessanti e fornisce una gamma di nutrienti. Sono d'accordo. Provare diverse opzioni per la colazione aiuta a prevenire la monotonia e garantisce una dieta equilibrata. Trovo inoltre che fare una buona colazione dia un tono positivo per il resto della giornata. Iniziare la giornata con un pasto soddisfacente migliora il mio umore e mi aiuta a rimanere concentrato. È interessante come le nostre scelte per la colazione possano influire sul nostro benessere generale. Sì, dedicare del tempo a nutrirci al mattino dà un tono positivo per la giornata a venire. Grazie per aver condiviso la tua scelta per la colazione. È stimolante esplorare diverse opzioni. Siete i benvenuti. Sono lieto che possiamo scambiarci idee per iniziare la giornata in modo nutriente. Fino alla nostra prossima conversazione, che le vostre mattine siano piene di colazioni deliziose ed energizzanti. Lezione 17. Regole e apprezzamento. Ciao Anna, volevo parlare delle seguenti regole. Ciao John, è importante rispettare le regole in varie situazioni. Tenendo presenti queste regole, possiamo mantenere l'ordine. Assolutamente. Le regole creano un senso di struttura ed equità. Garantiscono che tutti siano sulla stessa pagina. Il rispetto delle regole dimostra rispetto e responsabilità. È essenziale comprendere lo scopo alla base di ogni regola. Conoscere i motivi ci aiuta ad apprezzarne l'importanza. Seguire le regole promuove anche la sicurezza e il benessere. Questo è vero. Esistono delle regole per proteggerci. Apprezzo il tuo impegno nel seguire le regole. Grazie credo sia importante per una società armoniosa. È stimolante vedere che anche gli altri apprezzano le regole. Quando tutti rispettano le regole, le cose procedono senza intoppi. È anche importante comunicare in modo efficace sulle regole. Una comunicazione chiara garantisce comprensione e conformità. A volte le regole possono essere difficili da seguire, ma è necessario. Sì, richiede disciplina e autocontrollo. I vantaggi delle seguenti regole superano gli inconvenienti temporanei. Assolutamente. Porta a un ambiente più organizzato ed efficiente. L'istruzione e la consapevolezza possono contribuire a promuovere una cultura rispettosa delle regole. Apprezzo le tue intuizioni su questo argomento. Grazie anche per me è importante il tuo punto di vista. Insieme, creiamo una cultura della coscienza delle regole. Infatti, i nostri sforzi collettivi possono avere un impatto positivo. Grazie per aver discusso delle regole e del loro significato. Lezione 18. Apprezzamento dell'arte Ciao Anna, sei stata in un museo d'arte di recente? Ciao John, sì, ci sono andato ieri. È stata un'esperienza meravigliosa. È fantastico. Che tipo di arte avevano? Avevano una collezione diversificata, dal classico al contemporaneo. Hanno presentato opere di artisti famosi? Sì, c'erano pezzi di Picasso, Monet e Van Gogh. Wow, sono artisti famosi. Qualche stile particolare ti è piaciuto? L'impressionismo cattura magnificamente l'essenza di un momento. Esattamente. Le pennellate e l'uso della luce sono accattivanti. Hai visto anche sculture o installazioni? Sì, c'erano splendide sculture e installazioni stimolanti. L'arte può evocare varie emozioni e innescare conversazioni significative. Assolutamente. Ci incoraggia a vedere il mondo da diverse prospettive. Hai imparato qualcosa di nuovo sull'arte durante la tua visita? Sì, ho imparato a conoscere il simbolismo dietro certe opere d'arte. La comprensione del simbolismo aggiunge profondità all'esperienza artistica. Lo fa. Ci permette di apprezzare le intenzioni dell'artista. I musei d'arte offrono uno spazio di arricchimento culturale, vero? Lo fanno. Mostrano la creatività dell'espressione umana. Trovo affascinante il modo in cui l'arte si evolve nel tempo. L'arte riflette i valori e le idee mutevoli della società. È una testimonianza del potere della creatività e dell'immaginazione. Assolutamente. L'arte ha la capacità di ispirare e commuovere le persone. Sono lieto che tu abbia avuto un'esperienza significativa al museo. Grazie l'arte è sempre stata una mia passione. È meraviglioso vedere il tuo entusiasmo per questo. L'arte ha un modo per portare gioia e bellezza nelle nostre vite. In effetti, arricchisce la nostra esistenza in tanti modi. Continuiamo a esplorare e apprezzare l'arte insieme. Assolutamente. Continuiamo a nutrire le nostre anime artistiche. Grazie per questa coinvolgente conversazione. Grazie anche a te. È stato un piacere parlare di arte con te. Fino alla prossima volta, continuiamo ad abbracciare il mondo dell'arte. Sicuramente. Attendo con ansia la nostra prossima avventura artistica. Grazie a te. Grazie a tutti.